Allora stiamo parlando della terza nostra inchiesta e più cliccata nel nostro sito www.studio.br.sigratis.net Nel nostro www.studio.br.sigratis.net lo rimettiamo qui nella nostra web tv www.studio.br.sigratis.net Parliamo e anzi discutiamo con voi, con i lettori, con i nostri web writer, web online De una cosa un po' per noi diciamo caustica e conoscitiva Allora siamo nel mondo del fashion Che succede? Che nel fashion, che cos'è il fashion prima di tutto per chi non è diciamo dentro nella notizia Il fashion è la moda, nel pret-à-porter, nel tutto quello che può capire si può tendere scarpe, moda, stile, tendenza Anche un fashion può essere un ristorante, un locale, un'idea e altre cose Ma parliamo del nostro giornale più cliccato per questa notizia E credo anche negli altri siti del mondo, dell'Italia o nel mondo, non si sa Ancora non è del tutto conoscitiva forse del mondo Diamo il caso, purtroppo, di questa signora Bianca Balti Il caso della signora Bianca Balti Forse nessuno sa il suo nome oppure intuisce qual è il personaggio La signora Bianca Balti, una ragazza di sotto trentenne Madre di un bambino di cinque anni Ha, in questi ultimi due anni possiamo dire Ha incrementato la sua attività di indossatrice e di modella Nelle tv e nei giornali Con campagne pubblicitarie Di noti operatori telefonici Di cellulare Con famosi attori Nel mondo dell'Italia vista Diciamo se vi ricordate La loro pubblicità La signora moglie di Galileo La signora Casanova E altri personaggi Che succede? Che abbiamo incontrato la signora Balti Anche, tra virgolette, l'abbiamo vista tutti Se non tutti Durante il festival di Sanremo Ma l'abbiamo anche incontrata nel luglio 2010 Noi vettivoghi.net a Roma 2012 scusatemi Forse non era ancora così nota nel 2010 Nel 2012 a luglio a Roma Durante l'alta moda Nella settimana dell'alta moda di Roma Che è successo? L'apertura di questa settimana dell'alta moda Che poi ne parliamo ancora Perché l'alta moda romana È, punto Una situazione non proprio gioiosa Non proprio comunicazione nel mondo Ben messa Questo è un altro discorso Le parleremo un altro giorno Che succede? A inaugurazione conferenza stampa Con il signor Stefano Tomilella Della famosa azienda Gattinoni Presente anche la signora Sensi Assessore del comune di Roma Più anche la signora Balti Come? Immagine di una mostra fotografica Presentazione della settimana dell'alta moda Insieme alla presentazione di questo Insieme a un book fotografico Con vari personaggi del mondo Dello spettacolo Della moda E di Milano E del mondo Abbiamo visto dei scatti Fotografici Della signora Balti Attraverso gli occhi Di un certo famoso Stilista Cappo E altri fotografi Importanti Abbiamo visto Durante questa mostra Fotografica Molte fotografie Come se fosse stata fatta Da una mamma Diciamo Completamente A proposito Allora Lo sappiamo Che in questo periodo Nella nostra esistenza Sulla terra L'immagine È tutto Sappiamo Che tutti i notorcalchi Tutti i televisioni Tutti i giornali Tutte le riviste I quotidiani I settimanali I mensili Hanno un punto di riferimento Sesso Fame E paura Queste tre Fanno sì Che L'editore Guadagnano Perché come ben capite Che il sesso Una donna nuuta In copertina Vende più di un Bambino Affamato O di una donna Di una certa età O di una storia Vera La fame Certo Perché le modelle Che si appaiono Sulla copertina Sono Non del tanto In carme Diciamo che c'è Un'anoressia E una bulimia In costante A molto Ossia Che tra ragazzi Adolescenti E ragazzi Adolescenti C'è questa mania Questa malattia Diciamo Che è veramente Una malattia Che la sanità Ritorniamo Nella sanità Dovrebbe occuparsi Ma anche Gli editori Anche Gli indossatori Cioè Gli stilisti Gli giornalisti Dovrebbero capire Che l'anoressia È male È brutta Non fa Vendere Niente Nell'abito Nel giornale Allora Che succede La paura Naturalmente È Quella L'omicidio Femminicidio Altro Tema dolente In questo periodo Anzi Da anni Succede Che Nella media Normalmente Statistica Ci sono Donne Che vengono Uccise O maltrattate O violentate Ogni Due Tre Giorni Che succede Allora Ricordiamo Sesso Le donne nude La fame La malattia Con l'anoressia È la paura Di donne O di uomini Che hanno paura Di queste nuove Donne Del futuro O del passato Perché anche il passato È successo Ricordiamoci Che anche il passato È successo Questo Ma non sia stata Molta notizia Su questo Ricordiamo Il nostro sito www.studio.br .sigratis.net Dove potreste Trovarci Ma anche su Youtube Sul nostro Pagina Patrizia Pierbattista Ma adesso Diamo un po' Di informazione Sul nostro Portale La web TV TVoghe.net Nasce In Italia E si sviluppa In Italia Vi parlo Dalla redazione Che si trova In Italia Più precisamente A Viterbo Viterbo Non sapete dov'è È qua Nel centro D'Italia Precisamente A pochi chilometri Da Roma Capitale D'Italia Chi ci legge Chi ci legge O chi ci vede Nell'estero All'estero Che succede? Noi tutto Parte Dal nostro Portale Che è Studio www.studio.pr.sigratis.net È il sito Di riferimento Dove potrete Ricavi E scriverci Su Noi vi diamo Adesso La nostra E-mail È redazione .thevogue www.net Chiocciolagmail.com Oppure Naturalmente Chi vuole Scriverci O messaggiare Si può Trovarlo Con un SMS Al numero Più 39 Chi manda Tramite All'estero 333 5 4 39 111 Intanto Possiamo parlare Degli articoli Che ci saranno In questo mese Di febbraio E di marzo Parliamo Di moda Delle vip Dietro le quinte Come vengono Fotografati Dalla nostra Fotografa Linda Aes Un po' Di articoli Fatti Da me Patrizia Bermattista E dalla nostra Collaboratrice La Giuliana Matteucci Si parla Nuova Di inchieste Di cronaca Delle news E di viaggio Questa volta La signora Giuliana Matteucci Ci ha portato Anzi Vi porta Nel Nepal Nepal Asia Monti Molto alto Freddo E caldo Secondo a chi Vuole andarci Con tutte le loro Strutture Alberghieri Aerei Naturalmente Ringraziamo L'art director Che è qui Presente Davanti a voi La telecamera Patrizia Pierbattista La nostra Regia E il videomaker Che è dietro Le quinte Della telecamera Linda Ais La ringraziamo Dalla redazione Naturalmente Siamo tutti noi Patrizia Pierbattista Mirella Pierbattista Collaboratrice Giuliana Matteucci E la La youtube E il nostro Editore Che è Studio PR Vi diamo appuntamento La prossima Puntata Che vi ricordiamo Sarà ogni Mese Speriamo che Sarete in tanti A vederci E a leggerci Sul nostro sito E il nostro Magazine Che si chiama Tevoke.net Naturalmente anche La nostra Web tv Tevoke.net T.W.N Buona serata O buona giornata O buona notte O giorno A chi In questo momento Ci legge O ci vede Perché nel mondo Siamo in varie Parti Notte Giorno E sera Ok E ringraziamo Ancora tutti Voi che ci avete Scrittito E ascoltato Ciao E te vogue Ciao Tevoke.net La vostra Web tv Online Sul Canale Youtube E il nostro Magazine Online Su www.studio.pr.sigratis.net Le foto Che voi Vedete Sono Direttamente Dalla Signora Baldi Dade in Concessione Al Tevoke.net Dade in